Ma buona... Però io sto parlando, fare l'intro, ma la fai fare? Bastardo? Ma buonasera, signori. Siamo nella seconda puntata di questo speciale di Natale e andremo a far... Questo è lo spirito giusto, bravo, bravo, bravo. Fa la 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 la, la 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 la. Andiamo a fare il secondo contratto The Witcher. Va al mercato durante il giorno e parla con il Silvester Amello. Un mercante di Novigrad di nome Silvester Amello aveva preso un avviso sulla bacheca della città chiedendo aiuto per catturare un folletto. A quanto sembrava la gilda dei mercanti era fragilata da questa misteriosa creatura che rubava merci dai banchi. Geralt accettò il lavoro. Quindi andiamo, signori. E vai! Porca miseria. Salve! Allora abbiamo una pista. Questo dice che un folletto gli ruba a tutta la roba. Cerchiamo delle piccole tracce. Oh, eccole già. Il mercante è vero. In realtà sembra che un giovane catturale. Eccole! Capito, che cazzo è zavolo? Ah, perché è passato nell'acqua. Eppure noi scendiamo. Mi sembra anche giusto. Ah, eccole! Un mutaforma questo è, ma è stato. Uh! Ah, eccolo. Poi allora, ci sono altri mutaformi che vivono facendo semplicemente il mendicante. I mendicanti. E, eh... Dicono a questo tizio di non trasformarsi più in un gatto ma di scegliere, appunto, pure lui, il mendicante. Eh, questo doveva bruciare la lettera però non l'ha fatto. E ora noi dobbiamo cercare questo cazzo di folletto. Ricordate sempre For the Loot i vestiti. Seguiamo questi odorini, dai. For the Loot For the Loot Non c'è nulla, non c'è nulla. Ora vieni a la città, vieni a giocare la tua fluta! Buon sento, e qui mi pensavo che i guardi tempoli erano borsi. Vieni a risultare un'officio per l'attività? Mi raccomando un'advice, mutante. Guarda chi parla. Mi sapevi che sei un doppler e un kleptomaniac. Merchants hanno fatto un contratto a me! Sempre la stessa vecchia Ehi, aspettate Fermo Ah, molto semplice Oh, cazzo Oh, aspetta, sì Ah, sì, te rompo il culo Scusate, stop, mi sorrisco Potrebbe essere potente sembrare come un uccionista O farvi che ti combattere come uno Tu sei donato la tua skin è enough Per sapere qualsiasi sei E qualsiasi senti Non importa Scusate di scendere O vado a te stesso Ora vieni a perdere Non mi hai scelta Cosa? Ma che siamo scemi? Via, via, via Ma perché? Aia Ma che ho fatto? Ma che ho fatto? Oh No Ho perso parte delle monete? Ma che cazzo volevate? Ecco la Ma che cosa sta succedendo? Signori Anche questo secondo e ultimo episodio di questa serie Natalizia finisce Io vi ricordo di seguirci sempre su Twitch Siamo live dal lunedì al venerdì Dalle nove e mezza Fino alle undici e mezza E niente Mi raccomando Andate piano Ciao